... Mister, domani ci attende un'impresa, ma il calcio ci insegna che sono sfide difficili, ma nulla è impossibile. No, no, hai detto bene tu, niente è impossibile, sarà un'impresa difficile, difficilissima, però ce la giocheremo, fino a che l'arbitro non fischierà la fine della gara, noi ci metteremo l'anima e tutto quello che possiamo dare. Al di là degli squalificati, domani conta poco, conta chi entra in campo e come entra in campo. Sì, c'è poca tattica, poca tecnica, il solo sudare è dare tutto quello che uno ha nella gamba e nella testa e nell'anima, è la partita che ognuno quando nasce vorrebbe fare, perché sono partite importantissime e possono fare la storia, per cui ci siamo, ci siamo e siamo pronti. Grazie.